Bellissimo! Altro giorno stavo seduto alla scrivania, lì a lavorare. A un certo punto con la coda dell'occhio c'era qualcosa per terra che si muoveva, un animaletto, qualcosa. Il tempo che ho girato la faccia di là è proprio uguale ad un cartone animato. C'era questo topolino piccolissimo che ha fatto un saltino proprio pic per terra come dire oh! L'hanno beccato e è scappato via. Il brutto è che ieri ho scoperto che ce ne stanno due di topolini o almeno due perché li ho visti insieme piccoli quindi non è che io li posso uccidere, sparargli, mettere le trappole. E quindi ho scogitato, ho scogitato. Chetty mi ha suggerito un metodo per fare una trappola semplicissima con la quale non fai del male al topo e lo puoi liberare poi in qualche posto distante. Questi sono gli arnesi del mestiere. Allora c'è un coltellino con una fettina di salame e qui c'è una insalatiera. Allora tu cosa fai? Disponi il coltellino qua su un piano, poi prendi questa bella cosona e la metti sopra in modo che si appoggi sul bordo, sul bordo del coltellino, su questa parte finale. Allora vediamo se sono capace. Ecco diciamo così, dici mo quindi che succede? Succede il topolino e entra dentro, si comincia a rosicchiare la cosa e come sposta il coltellino lo tocca, tac! Questo va giù, lui rimane dentro, tu a quel punto senti dei rumori, prendi, vai fuori, vai in qualche posto qua vicino e lo lasci libero di modo che lui può continuare la sua vita da qualche altra parte. Piazzo bene il coltellino, si legge in piedi nel momento che ci mettiamo questo sopra ed è fatto! Ho qualche novità sul topolino, ho sentito proprio il rumore dell'insalatiera che faceva PROC! Quindi secondo me abbiamo un nuovo ospite, non c'è più lo spessore che tiene alzato all'insalatiera, lo spessore non c'è più, il coltellino è cascato e quindi qui dentro c'è qualcuno! Andiamo un pochettino più distanti! Io ti piazzerei proprio qui! Proviamo a aprire e vedere se c'è il topolino dentro! Attenzione! Lo vedi? Eccolo là! Escappato? Eccolo via! Ciao! 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 Ciao!